Benvenuti in questo nuovo video! Oggi andremo a fare la black and white build challenge. Consiste nel buildare una casa interamente con lo schermo in bianco e nero. Io naturalmente andrò a fare una tiny house, altrimenti ci metto un'eternità. Finiamo domani mattina. Pronti? Vai! Oddio, ho perso la freccetta. Cominciamo a buildare. Io voglio fare una struttura un po' moderna. Poi voglio mettere qua le scale. Io ho sempre usato i cicci. Sto usando la roba del gioco da poco, quindi non so cosa andrò a combinare. Io già rido, secondo me faccio un macello. Allora qua ci sarà l'ingresso con... no, questa la voglio più spostata. Qua ci sarà l'ingresso con il divano. Qua voglio mettere la tv. Poi qua voglio mettere la cucina. E vorrei fare anche una parte esterna. Magari la facciamo così. Ok. La parte di sopra comunque la voglio fare piccolina. Mettiamo solo la stanza da letto. Magari qua mettiamo un mini balconcino. E il bagno, basta. Oddio, è difficilissimo in bianco e nero. Io non vedo niente, non capisco. Vabbè, lo facciamo così il bagno, va? Il tetto lo mettiamo così, tipo piattaforma. E poi ne mettiamo un altro qua. Così. Mettiamo la porta. Voglio una porta grande. Grande ma bella. E ora come faccio? Questa. Boom. Questo è bellissimo. Poi mettiamo le porte per uscire fuori. Così. E poi un'altra qui per uscire qua fuori. Qua una porta per il bagno. Ma ora dove sono le porte quelle? Oddio, questa è in vetro. Cioè, mi piacerebbe in vetro. Ma dove sta la privacy? Cioè, la porta quella moderna. Forse è questa, quella moderna. Che ne so io. Che colore è questo? No vabbè, secondo me sta casa uscirà le... Secondo me sta casa uscirà arlecchino. Già adesso non capisco che colori sto usando. Sì, dai. Carina. Ma il problema è non solo che non capisco i colori. Io non capisco proprio cosa... Io non ci vedo proprio. Non so, non riesco a ritrovare le cose. Eh, forse era questa quella che volevo mettere. Forse. Ma non va bene così. Eh, al nulla si aggancia così. Ok, allora facciamo diversamente, va? Oddio, non capisco neanche qual è quello selezionato. Così va bene. È bruttissimo. Oddio, io non vedo. Ok, va bene questo, dai. Mamma mia che ci esce. Forse così è decente. Che poi chissà che colore è. Vabbè, andiamo a mettere il colore alle pareti. Non lo so. Mettiamo questo. Tutto uguale, per non sbagliare. Andiamo a mettere un po' di finestre. Sì, una finestra penso che basta in bagno. Io non so minimamente che colori sto usando. Ho una paura matta. La casa veramente sarà arlecchino, me lo sento. Ma qui però ci può stare un finestrone. Anche due. Così. Boom. All'interno della casa, per terra, voglio mettere sicuramente il parquet. Quale? Ok, mettiamo questo. A caso, io sto mettendo proprio roba a caso. Sarà prato questo. Qui ai lati voglio mettere il prato. Anzi, lo mettiamo dappertutto. Solo che ora, bianco e nero, come lo ritrovo quello? Questo dovrebbe essere. Chissà che colore è uscito pure questo. Oh, dai, è carino. Ma io non vedo niente, però. Cioè, io questa roba non la capisco. Davvero non vedo niente. Non lo sto facendo apposta. Io sono cieca. Che peccato che non ci sono i motorini. Vorrei una moto. Colore. Non lo so. Comunque io volevo fare una struttura piccola e semplice. E naturalmente mi sto complicando la vita. Cominciamo dalla cucina. Allora, voglio usare questi che mi piacciono un sacco. Colore indefinito. Surprise. Uno, due, tre. Il frigorifero. Usiamo questo, mi piace. I fornelli. Mettiamo i fornelli a induzione. Poi voglio mettere il forno così. E poi il lavandino. Ecco, questo è un altro problemone. Va bene, così. Andiamo a mettere i pensili. Lo spazio per il frigorifero qua è enorme. Perché non mi fanno un frigorifero gigante che posso mettere qua in questo spazio? Ecco, vedi? Nei cicci ci sono i frigoriferi di diverse dimensioni. Colore. Ah, boh. Beh, con il coso nero sicuramente vanno meglio. La tenda, qua vorrei mettere il tendone che scende. Ecco, tipo così. Colore. Ah, non ne ho idea. Mettiamo chiaro così. Allora, mattonelle per la cucina. Non ne ho idea che mattonelle metto. Surprise. Andiamo a mettere qui la TV. Mobiletto per la TV. Con la TV che va a finire nella scala. Naturalmente. Così non va a finire nella scala. Cioè, significa che devo togliere questo. Adieu. Mettiamo il divano componibile. Mettiamo un tappeto. Già di mio non so che colori sono. In bianco e nero. Stupendo. Vabbè, è una casa moderna. Ci sta. Ma i divani di che colore? Così. Cosa verrà alla fine? Una lampada. Moderna. Sì. Non so cosa è cambiato. Qua un bel quadro. Grosso. Io so che quadro voglio. Ma come lo trovo? Allora, ho cercato ma non riesco a trovarlo. Quindi, alla fine ho scelto questo. Che comunque, voglio dire, è carino. Soprattutto questo. Mi piace un sacco. Solo che, secondo me, cozza un po' con il tappeto. Ma vabbè. Vedremo alla fine. Poi mettiamo una pianta. Anche qui. Già so quale voglio. Ma la devo andare a ritrovare però. No, non era questa. Però, quasi quasi. Lasciamo questa. Qui volevo mettere un po' di piante. E qua voglio fare la zona barbecue. Colore. Non si sa. Poi, un tavolino di quelli da bar. Colore. X. E lo sgabbellino. Questo mi piace. Colore. Romantico. E poi ho messo anche la better build. Il problema è che in questo caso non mi sta aiutando. Perché in questo caso sto... Cioè, vedo cose che prima non avrei visto. Quindi se già prima ero confusa, adesso sono ancora più confusa di prima. Proprio ho avuto un tempismo perfetto per mettere la better build. Io direi che basta così qua. Qua in cucina mettiamo un tappeto. Ora per trovare il colore del tappeto che già di solito non me ne piace uno. Figuriamoci adesso. Questo. Che colore è? Uscirà tipo blu, rosso, verde. No, lo mettiamo tinta unita così. Non mi ricordo che colore era. Mettiamo un tavolino per il salotto. Colore. Così. Ma anche qua la metterai in un'altra piantina. Magari qua mettiamo questa. Colore. Non lo so. Questa è la mia pianta preferita. Ma penso che da quando l'hanno messa praticamente è diventata la pianta preferita di tutti. Qua ci sta benissimo un quadretto. Eccolo! Quello che cercavo prima! Eccolo! Allora, l'andiamo a mettere in camera. Poi vediamo dove. E qua ci mettiamo questo quadretto qui. Quando trovo qualcosa che mi piace il gioco non me la fa mettere. E dai! È un complotto! Ne mi confronti! È un complotto! Uhuh! Finalmente! Mi ha fatto mettere una pianta! E vai! Ho scelto un po' di oggettini da mettere sui banconi. Ora andiamo a cambiargli i colori. È sempre tutto a caso. La vorrei minimalista questa casa. Altrimenti finiamo dopo domani il letto. Ecco, adesso altre tre ore per scegliere il letto. Ora, il colore del letto. Chiaro? Oh! Io non so come si vede nel video, ma io non vedo niente. Io non capisco cosa sto facendo. Queste sono tutte le scuse, così dopo non faccio una brutta figura, no? Per aver fatto un'accozzata di colori. Ecco, questo mi fa impazzire. Questo comodino di Monte Comorebbi è bellissimo. Vai! A caso! Anche questo lo adoro. È dello stesso colore dei comodini. Speriamo... Ecco, mi piace questo. Mettiamo il tavolino qui. La sedia per il computer. Non lo so. Ok. Colori. Non mi ricordo neanche che colore è il primo. Le lampade. Non ce la mette. No! Dai! Non mi mette le lampade sopra... Ma dai, ma perché? Ah, questa gli piace. Questa ha deciso che va bene. Le altre no. Ma questa sì. No, non mi piace. Allora facciamo un'altra cosa. Mettiamo le lampade che scendono. Ora tre ore per ritrovare la lampada che dico io. Ho trovato questa che secondo me è carinissima. Soprattutto se faccio così la rimpicciolisco e qua ci sta da Dio. Poi mettiamo delle piante. Non sbagliamo mai. Non sai cosa mettere? Metti una pianta. Ora riempio tutta la casa. Facciamo una casa piena di piante. È bella questa. Ho messo il cappellino. Poi ho messo queste piantine che mi piacciono tantissimo. E ho aggiunto anche il tavolino di un giorno alla spa con la piantina che l'ho rimpicciolita, i libri e il telefono. Sono tutti da ricolorare. Quindi andiamo. Vediamo un po' anche qua un po' casuale. Così. Va chiaro. Un'altra pianta di quelle pendenti. La mia pianta preferita, questa. La mettiamo qua all'angolo. Che scende. Qua fuori, ecco, idea, idea. Mettiamo un tappeto. Se lo trovo. Colore. Questo. Poi mettiamo i cuscini a terra. Colore dei cuscini. Ah, non ne ho idea. Lo sgabellino. Che ne facciamo finta che è tipo un tavolino. E di qua, naturalmente, mettiamo una pianta. E di qua che mettiamo un'altra pianta. E ce ne vuole un'altra però. Qua non ce la metti un'altra pianta. Che fai? Te ne privi. Meno male che era minimalista. Cactus. Cambiamo i colori. Intanto, se sentite dei rumori, sono i miei cani che stanno facendo un macello. Poi, voglio mettere qui sopra le candele. Se il gioco me lo permette. E naturalmente non me lo permette. E la dovrei mettere così. Mettiamola così. Sembra bianco, ma non è. Qua sotto. Un'altra pianta. Non ce la vuoi mettere qua sotto una pianta. Scusa. No, direi magari ci mettiamo una sediolina. Un po' questa. Colore. X. Qua una piantina ci sta bene però. Sarebbe bella una piccola pa... Oh, com'è carina questa con le lucette. No, vabbè, ma questa è bella. Magari la mettiamo qua allora. Togliamo questo. Mettiamo questa piantina. Uh, com'è carina. Ecco qua. Ok, andiamo a fare il bagno. Il bagno. Due punti. Svolgimento. Qua mettiamo una finestra. Così. Et voilà, fatta la doccia. Dobbiamo assolutamente cambiare il pavimento. Perché in bagno il pavimento di legno non va bene. Mettiamo... Oh. Mettiamo le stesse mattonelle. Se le trovo. Mamma, secondo me è venuta di due colori diversi. Non so, me lo sento. Allora, la doccia questa. Cambiamo colore. X. Qui il bc. Sì. E qui il lavandino. Lo specchio. Uno specchio lungo. Beh, bello. I colori. La carteggianica. Colore. Oddio, spero di non averla messa tipo dorata. Ehi! Basta? Basta fare casino. Voi volete fare i video, eh? Vieni i bambini! Dai, saluta. No! No! Ciao! Dopo questa piccola interruzione pelosa, andiamo avanti. L'accappatoio. Colori. Oh, a occhi chiusi possiamo mettere i colori ormai. Qua che mettiamo? Non gliela vuoi mettere una pianta in bagno, scusa. Colore. Ormai questo è il mood. Colore. Tappeto. Colore. Bello questo con le foglie. Abbiamo finito, abbiamo messo tutto. Ah no, manca la cassetta delle lettere. Colore. Vai. Eh, ma a sto punto qua ci sta una pianta. Oddio, oddio. Così. Ok, siamo pronti a vedere che cozzaglia di colori ho fatto. 3, 2, 1. Eccola! Vediamo, gustiamocela piano piano. Allora, l'esterno già va benissimo. Le finestre queste le ho messe nere, questa l'ho messa marrone. La pavimentazione è qui anche, va bene. La porta d'ingresso mi piace un sacco. Vediamo. Oddio, già ho visto un colore. No! Oh mio Dio! Cioè, io non le avrei mai, mai scelti questi colori. Mai, sicuro, sicuro. C'è questo tappeto rosso che è proprio boom. E questi altri colori qui sono bellissimi ma non ci azzeccano niente con tutto il resto. Vabbè, aspetta. Qua riprende il rosa del vaso se vogliamo essere proprio pignoli. Questo mobile che non ci azzecca niente con tutto il resto. Le tende gialle. Le scale sono nere, però. Il pavimento è grigio, io invece lo volevo marrone. Vabbè. La cucina è gialla. Le mattonelle dietro sono marroni. Beh, anche questo è giallo, però. No, vabbè. Cioè, senza volerlo ho fatto comunque gli abbinamenti. Il vasetto è giallo. Questo è blu. Diciamo blu e questo è azzurro. Qua fuori carino, carino, non male. Il vaso grigio, gli sgabelli bianchi. Va benissimo. Andiamo a vedere sopra. Oddio. Non è malissimo, ma a sto punto preferisco giù. Il vaso blu. La porta di questo colore chiaro, quando invece il resto è tutto scuro. Il cappello rosso. La sedia che non ci azzecca niente. Qua fuori di che colore le ho messi i cuscini? Ecco, viola e azzurri. Però dai, non è male. Perché comunque c'è anche la candela, viola. Oddio. C'è anche la lanterna. E lilla. Che bello. Ripreso anche la lanterna. Questo pure è tipo arancione che riprende la tettoia. Dai. Il bagno è carino invece. No, vabbè. È tutta colorata questa casa. Non ci credo. Ho preso lo stesso colore, pavimento e mattonelle. Non ci credo. Ce l'ho fatta. Allora, non male. Per averlo fatto in bianco e nero senza aver visto niente, secondo me, è venuta abbastanza carina. Poteva uscire decisamente peggio. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa challenge e soprattutto se vi è piaciuto il risultato ottenuto. Io sono abbastanza soddisfatta comunque. Anche perché, ribadisco, io non ci vedo. Un bacione ciccione a tutti e alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti.